Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Con la puntata di oggi chiudiamo questa miniserie, che mi è stata scritta da Ilaria, che ringrazio come sempre tantissimo, dedicata alle tre donne di Palazzo Vénière. Tre donne che si sono letteralmente passate, o meglio vendute, l'un l'altra in Palazzo di Venezia, di cui abbiamo già parlato nella prima puntata di questa miniserie, e che sotto un certo punto di vista rappresentano tre modi diversi di intendere il palazzo in sé e il rapporto con l'arte. La prima, la prima che abbiamo raccontato in descrizione ovviamente trovate nella playlist, cioè la Marchesa Luisa Casati Stampa, era una donna che, venuta a contatto con l'arte, ha iniziato a desiderare di trasformare se stessa e la propria vita in una gigantesca opera d'arte che potesse fare da ispirazione per chi la seguisse, cosa in effetti in parte è riuscita. La seconda, a cui invece abbiamo dedicato una peristoria settimana scorsa, cioè Doris Casteros, probabilmente considerava se stessa una vera opera d'arte, almeno dal punto di vista dell'aspetto, e pensava che questo le avrebbe potuto aprire le porte di tutto quello che voleva, compreso il possesso di un palazzo di Venezia in cui tenere le sue feste. La terza protagonista della nostra miniserie che racconteremo oggi è invece una donna completamente diversa. È una donna che ha amato l'arte, è una donna che l'ha conosciuta, che ha conosciuto moltissimi artisti nella sua vita, di molti è stata musa, di altri protettrice, qualcuno l'ha aiutata, altri l'hanno aiutata. Una donna che ha rappresentato per l'arte moderna, soprattutto in Italia, un vero e proprio punto fermo, tanto da dedicare l'ultima parte della sua vita alla costruzione di quello che oggi in Italia è uno dei più importanti musei di arte moderna, nonché è uno dei più visitati musei d'Italia, è il secondo museo più visitato di Venezia. Situato dove? Esattamente nel palazzo protagonista della nostra miniserie, cioè Palazzo Venier dei Leoni. Come si chiama questa donna? Beh, il cognome che porta è molto importante, soprattutto nel mondo museale. Il suo nome era Marguerite Peggy Guggenheim. In effetti quando si parla di musei, a citare il nome di Guggenheim si rischia di fare un po' di confusione, perché non è l'unica della sua famiglia ad aver dedicato la sua vita, le sue fortune alla costruzione di un museo, per poi lasciarlo in visione al mondo intero, ma ha fatto la stessa cosa un suo zio che si chiamava Solomon Guggenheim e che ha costruito, creato la fondazione Guggenheim a iniziare dal museo di New York. Ma vedremo come le due cose si intrecciano. Dove prendevano i soldi per costruire questi musei? Beh, entrambi erano provenienti da una famiglia ricca. La famiglia Guggenheim aveva fatto i soldi una volta emigrata dall'Europa, erano una famiglia di religione ebraica emigrati in America dall'Europa, dove il nonno di Marguerite, di Peggy, aveva fatto i soldi prima facendo 1200 lavori e poi iniziando un'attività estrattiva, che aveva funzionato e l'aveva trasformato ben presto in un medio magnate delle estrazioni. Non immaginatevi Rockefeller, ma comunque di che concedere alla sua famiglia abbastanza denaro. In realtà Peggy veniva dal lato della famiglia un pelo meno ricco, almeno rispetto allo zio, e purtroppo anche quello un po' meno fortunato, perché nel 1912, quando Peggy aveva solamente 14 anni, perse il padre, che pensate morì durante l'affondamento del Titanic. Una volta perso il padre, rimase ovviamente una delle poche eredi della sua fortuna ed entrò in possesso, una volta compiuti i 21 anni nel 1919, di ben 3 milioni di dollari, 2 milioni e mezzo dell'epoca, pare grosso modo a un 35 milioni di dollari attuali. E cosa fece con questa fortuna? Beh, innanzitutto viaggiò. Penso che chiunque di noi a 21 anni venisse in possesso di una cifra così ampia, un bel viaggio se lo sarebbe fatto. E in effetti Margaret decise di viaggiare per l'America, si spinse fino in Messico, visitò le cascate del Niagara, viaggiò in lungo e in largo per gli Stati Uniti, e alla fine decise di tornare a New York, dove iniziò a lavorare presso una piccola biblioteca, molto particolare, dedicata in particolare agli scrittori più moderni, alle avanguardie, e che ben presto divenne il ritrovo di una piccola comunità di artisti. Da questo momento Peggy Guggenheim iniziò ad entrare proprio in contatto con la comunità di artisti più moderni, per così dire più contemporanei, così diciamo un termine migliore, della scena new yorkese, della scena americana. Una scena che all'epoca, c'è da dire, era considerata decisamente secondaria rispetto a quello che stava accadendo in Europa, dove si pensava che ci fossero le vere avanguardie, ma che progressivamente iniziava a crescere. E quella new yorkese iniziò a crescere grazie proprio anche a Peggy Guggenheim, che utilizzando le sue sostanze, dopo tutto il lavoro lo faceva più per passione che per altro, iniziò a finanziare e aiutare vari autori, anche scrittori, ma soprattutto artisti visivi, pittori, scultori, nelle loro opere, iniziando a cercare fra di loro quelli più meritevoli e iniziando anche ad acquistare qualcuna delle loro opere. L'anno successivo, però, il richiamo dell'Europa è troppo grande. Probabilmente gran parte dei suoi amici artisti gli avevano detto la stessa cosa, la prima guerra mondiale è finita, ora si può tornare a viaggiare in Europa, ed è lì che si fa l'arte, ed è lì che si fa l'avanguardia, è lì che i grandi artisti creano e nascono le nuove mode nel mondo dell'arte. E così nel 1920 si trasferisce in quella che da 40 anni è il centro dell'arte europea, cioè Parigi. Una volta arrivata a Parigi, ovviamente ne rimane affascinata, vivrà lì per otto anni, entrerà a contatto con il mondo artistico locale, che si tratti di scrittori, che si tratti di artisti visuali, diventerà anche una modella, poserà per Man Ray, diventerà molto amica di Marcel Duchamp, che sarà tra coloro che gli aprirà proprio le porte della comunità culturale di Parigi, decisamente più attiva, decisamente più varia rispetto a quella oltreoceano, e fa quasi strano pensarlo oggi, se ci pensate, dove forse il centro della cultura mondiale si sta progressivamente spostando oltreoceano. Ma all'epoca era ancora a Parigi. Peggy Guggenheim diventa, anche qui ben presto, una delle madrine dell'arte locale. Stabilisce una delle sue sedie a Montparnasse, che all'epoca era una zona molto povera, dove si concentravano la maggior parte degli artisti spiantati, che non erano ancora riusciti ad aver fortuna, ma tra quegli artisti riuscirà a trovarne molti meritevoli, e per otto anni vive a Parigi, dove nel 1922 si sposa anche con Lawrence Vail, con cui fa anche peraltro due figli, insomma, mette su famiglia. Nel 1928 però il suo matrimonio finisce, decide di andarsene dal marito, e per dimenticarlo, c'è da dire che i suoi amori furono sempre abbastanza tormentati e molto dolorosi, per dimenticarlo, prende il figlio, prende la figlia, che peraltro crescendo faranno anche la loro carriera nel mondo dell'arte, se volete avere una curiosità, e decide di iniziare a girare per l'Europa. Questo suo girovagare finisce nel 1938, quando attirata da uno dei suoi tantissimi amori, era famosa per aver avuto oltre vari mariti e anche varie avventure, decise di stabilirsi a Londra. E dato che in questi anni di girovagare aveva messo insieme una piccola collezione artistica, andando a raccogliere quelli che lei considerava i lavori migliori tra gli artisti con cui era venuta a contatto in tutta Europa, una volta che si stabilisce a Londra, decide di aprire una galleria. Una galleria che inizialmente era una vera e propria galleria d'arte, in cui le opere vengono acquistate, vendute, anche se molti fanno notare come una dei primi acquirenti sia proprio Peggy, che tra le opere che vengono esposte, riesce sempre a trovarne almeno una da comprare e aggiungere alla sua collezione. La sua galleria la chiama Guggenheim-Gön. Perché Guggenheim? Perché in quegli anni il cognome Guggenheim inizia a diventare molto importante proprio nell'arte moderna, grazie a lei, ma soprattutto grazie a quello zio di cui abbiamo parlato prima, cioè Solomon Guggenheim, che l'anno precedente, tra 1936 e 1937, aveva a sua volta aperto una fondazione dedicata all'arte moderna negli Stati Uniti, aprendo un primo museo proprio a New York, che peraltro dove esiste ancora. Questo primo anno in cui Peggy gestisce la sua galleria in realtà è fatto di alti e bassi, perché da una parte riesce ad organizzare delle interessantissime mostre, che attirano peraltro tantissimo pubblico nella sua galleria, che diventa ben presso uno dei punti fermi della vita artistica di Londra, tra cui una mostra monografica di Kandinsky, la prima mai tenuta a Londra. Dall'altra parte però la galleria dal punto di vista economico non funziona tantissimo, tanto che alla fine dell'anno scopre di essere in perdita. Sfruttando l'idea che era già stata dello zio, decide quindi di convertire la sua galleria in un vero e proprio museo, e inizia a cercare degli appoggi, dei contatti per creare questo museo. Un museo che ovviamente sarebbe stato privato, ma che gli avrebbe dovuto fornire una fonte di reddito in cui avrebbe potuto esporre le opere che aveva già raccolto. Ma dato che non era così convinta che quelle opere potessero bastare ad attirare un grande pubblico, decise di creare una lista, una lista di pittori, una lista di artisti, le cui opere avrebbe dovuto comprare per esporre nel nuovo museo. Sono sicuro che creare una lista del genere non gli spiaceva per nulla, perché come lei stessa disse più volte, una delle cose che gli piaceva di più al mondo era proprio scoprire un nuovo pittore, una nuova opera d'arte, acquistarla e portarla nella sua collezione. Non so se ne abbiate mai conosciuto, ma io ho conosciuto un malato d'arte, un uomo che adorava comprare e collezionare quadri, e vi devo dire che quando ne parlava gli brillavano gli occhi, e riesco veramente a capire quali fossero i pensieri dietro questo, ciò che stava facendo Peggy Guggenheim. Ad ogni modo, ad ogni modo, salutando il mio collega, che peraltro appunto è un collega e ha anche questa passione, o come dice lui, lavorava come medico per potersi pagare il suo vero lavoro, e vi chiudo qua l'inciso, dopo aver stilato la lista, Peggy si rese conto che forse Londra non era il posto migliore dove aprire quella galleria, e così, su consiglio anche di alcuni suoi amici, decise di tornare a Parigi. Nell'agosto del 1939, chiedo scusa, che il giugno del 1939 chiude la sua mostra, la sua galleria d'arte a Londra, nell'agosto dello stesso anno si trasferisce a Parigi, e qua inizia ad organizzare per creare il suo museo, la sua nuova mostra museo. C'è un problema, che cosa succede il mese dopo, nel settembre del 1939, scoppia la prima guerra mondiale, e così Peggy Guggenheim, pur rimanendo a Parigi, almeno inizialmente decide di mettere da parte l'idea del museo. Ma ovviamente non mette da parte l'idea di collezionare quadri, anzi, inizia a cercare di incamerare più opere d'arte moderna possibili, che posso immaginarmi, in epoca di guerra, vedessero il loro prezzo, iniziare a scendere, e di iniziare a cercare più opere possibili tra quelle presenti nella lista. E così compra opera di Chagall, opere di Picasso, opere di Klinte, opere di Max Ernst, che peraltro sposerà nel 1915, sarà il suo secondo marito, ma rimane qui come curiosità, le incamera e le prende tutte con sé. Alla fine, siamo nell'aprile-maggio del 1940, decisamente sbagliando le tempistiche, bisogna dargliene atto, questo capita molto spesso alle donne di Palazzo Vagnère, ma ve lo lascio come curiosità, comunque decisamente sbagliando le tempistiche, nell'aprile-maggio del 1940 decide di affittare uno spazio a Parigi per costruire veramente il suo museo. Peccato che un mese dopo, con i tedeschi ormai quasi alle porte di Parigi, sia costretta a impacchettare tutte le sue opere d'arte e trasferirsi oltreoceano tornando a New York. Mentre l'Europa, l'Europa che probabilmente aveva iniziato tanto a amare, era bruciata nella Seconda Guerra Mondiale, conoscerò ovviamente tanti anni di lotte, Margaret Peggy Guggenheim torna a New York e qui, forse anche in parte, grazie all'aiuto dello zio, crea la sua prima vera e propria galleria, mostra d'arte, in cui raccoglie, organizza e mostra ovviamente al pubblico le opere che aveva raccolto in tanti anni in Europa. Una galleria che è una mostra che lei stessa chiamerà The Art of the Century, cioè l'arte del secolo, proprio per rappresentare il fatto che lei sta rappresentando l'arte di quell'epoca, l'arte moderna. Negli anni che passa oltreoceano, che passa negli Stati Uniti, torna ad interessarsi anche di arte americana, anche di arte statunitense, che come vi dicevo all'epoca era considerata una parente povera rispetto a quella europea e torna anche a fare delle scoperte, tra cui ad esempio Pollock, di cui diventerà una delle prime mecenati, una delle prime a scoprire questo grande artista. Nel 1947, però, due anni dopo, la fine della Seconda Guerra Mondiale, chiude nuovamente la sua mostra negli Stati Uniti e torna in Europa. Potremmo dire una donna che quando prende una decisione la porta a termine, qualunque cosa succede. Torna in Europa e l'anno dopo, nel 1948, per la prima volta espone la sua mostra a Venezia. Perché a Venezia? Perché nel 1948 si tiene la Biennale, la Biennale d'Arte. Peggy non espone per l'Italia, ovviamente, non espone per gli Stati Uniti, ma espone, pensate un po', per il padiglione della Grecia. La Grecia, che all'epoca non avrebbe avuto la possibilità di portare delle sue opere, tantomeno un padiglione, dopo tutto era appena uscita dall'occupazione nazista ed era in piena guerra civile, come vi ho raccontato qualche pillola fa, ed appunto il permesso a Peggy Guggenheim, che nel mentre si era fatta un certo nome nel mondo dell'arte, di esporre la sua mostra nel padiglione greco, mostra che ben presto diventa una delle maggiori attrazioni della Biennale di quell'anno. Evidentemente, però, il rapporto tra Venezia e Peggy Guggenheim si fa forte. Lei stessa, che inizialmente forse pensava di tornare a Parigi e aprire la sua mostra, si innamora della città e decide che se deve aprire un museo, se deve aprire un'esposizione, non potrà che farlo a Venezia. E dove decide di farlo? Beh, se stiamo parlando di questa serie, ovviamente, non può che farlo a Palazzo Venier dei Leoni. Cosa ne era stato intanto di Palazzo Venier? Se ve lo ricordate, l'avevamo lasciato nella scorsa puntata nella peristoria dedicata a Doris Casteros, che, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, era stato abbandonato dalla sua padrona, che era fuggita negli Stati Uniti, era tornata negli Stati Uniti. In realtà, nel mentre Doris Casteros, però, come vi ho raccontato, era morta nel 1942 a Londra, probabilmente di overdose. E Palazzo Venier purtroppo non aveva conosciuto una vita molto più felice, perché prima era stato temporaneamente abbandonato, poi chiuso, era stato occupato dalle truppe tedesche, che l'avevano trasformato in un loro deposito prima e poi praticamente in una caserma. Avevano divelto metà del palazzo, era in pessime condizioni, ma nonostante questo, forse anche per il ricordo delle sue precedenti inquiline, quel palazzo affascinò tantissimo Peggy Guggenheim, che decise di acquistarlo, restaurarlo e progressivamente trasformarlo nella sede della sua prima mostra di arte moderna in terra italiana. a parte ovviamente quella temporanea della Biennale. Ovviamente però la sua passione per l'arte contemporanea non si spegne, perché oltre a continuare ad acquisire delle opere, lo farà grossomodo fino a metà degli anni 50, poi deciderà di dedicarsi a quelle che già possedeva, continua a fare il suo lavoro di mecenate, darà spazio ad autori moderni anche italiani, come Edmondo Bacci, Tancredi Parmegiani, che addirittura per un po' di tempo ospiterà all'interno proprio di Palazzo Venier, lasciandogli uno spazio dove poter creare e a tutti loro darà una possibilità cercando di far crescere quella piccola ma progressivamente in crescita comunità di artisti contemporanei che stava nascendo proprio in quella zona. Il suo è un museo per così dire ancora in fasce. La sua mostra è una mostra privata che viene aperta progressivamente alla popolazione, all'accesso, addirittura per un certo periodo mantiene all'interno una galleria d'arte in cui le opere d'arte vengono comprate e vendute ma ben presto decide di chiuderla e di trasformare l'intero palazzo in un'unica grande mostra. Una mostra che però almeno finché lei sarà viva sarà aperta solamente in primavera d'estate anche perché molto spesso in autunno le sue opere venivano impacchettate e spedite in altri musei per fare delle mostre temporanee una cosa che ovviamente permetteva di mostrare al mondo dopo tutto la sua passione era anche quella di divulgare l'arte contemporanea e che dall'altra parte aumentava anche la notorietà proprio della sua fondazione e del suo museo tanto che ben presto iniziò a diventare uno dei musei più visitati della stessa Venezia. La curiosità è che proprio questi viaggi probabilmente salvarono la sua collezione perché quando nel novembre del 1966 Venezia conobbe una delle acque alte più disastrose della sua storia la collezione che probabilmente sarebbe potuta essere rovinata era in realtà impacchettata e pronta per essere spedita e questo ovviamente la salvò evitando che le opere venissero distrutte. Negli anni successivi continuò a curare la sua opera continuò a curare il suo museo cercò nuovi artisti si circondò anche di collaboratori che potessero farlo crescere sempre di più e che progressivamente iniziarono a sostituirla in alcuni compiti inizialmente poi sentendo ovviamente arrivare la vecchiaia iniziò a pensare a cosa fare di quelle opere intanto aveva ricevuto la cittadinanza onoraria veneziana e per questo aveva avuto anche l'idea di cedere il museo al comune affinché potesse occuparsene direttamente il comune di Venezia che però sorprendentemente rifiutò forse temendo complicazioni nella sua gestione alla fine nel 1976 decise di risolvere il problema per così dire in famiglia contattò si mise d'accordo ovviamente l'aveva già contattati l'altro ramo della sua famiglia quello che gestiva la fondazione Guggenheim a New York e gli cedette tutto il palazzo le opere e ovviamente la gestione a patto che continuasse ad essere esposta all'interno del palazzo e continuassero le sue opere ad essere esposte a Venezia tre anni dopo nel 1979 Peggy Guggenheim moriva e le sue ceneri proprio a San Ciro ormai un indissolubile legame con quel palazzo venivano sepolte all'interno del giardino del palazzo stesso e attualmente sono circondate da statue perché quel giardino è stato riutilizzato proprio per creare una mostra di statue da quel momento il museo Peggy Guggenheim ha continuato a crescere come vi dicevo oggi è uno anzi il secondo museo più visitato a Venezia dopo quello di Palazzo Ducale è uno dei musei più visitati d'Italia peraltro se ci pensate in un genere quello dell'arte moderna arte contemporanea che non è proprio il primo pensiero che viene in mente quando si pensa ad un viaggio in Italia di solito pensiamo di andare a visitare altre cose quindi bisogna dire assolutamente tanto di cappello la struttura continua ad essere gestita dalla fondazione Guggenheim che continua ad organizzare delle piccole espansioni delle mostre temporane talvolta presta i quadri per continuare a diffondere la cultura dell'arte moderna e ha continuato a gestirla qualche anno fa c'è stato anche una piccola coda polemica perché uno dei nipoti di Peggy Guggenheim ha cercato in tribunale di riprendere il controllo della collezione accusando la fondazione Guggenheim nata dal prozio di non gestirla secondo le volontà appunto di Peggy la cosa è andata in tribunale è terminata però con una sua sconfitta e attualmente tutto rimane all'interno della fondazione qua si chiude questa miniserie devo essere sincero è stata una miniserie che ha stupito un po' anche me stesso scoprire come tre donne così diverse una dopo l'altra abbiano interpretato questo palazzo ma soprattutto abbiano interpretato il rapporto con l'arte tre donne che dopo tutto soprattutto mettiamo da parte temporaneamente Doris Casteros e concentriamoci sulla prima e sulla terza due donne che sono state fortemente legate all'arte ma in maniera così diversa una che ha dato tutta se stessa all'arte fino a esserne consumata e un'altra che invece all'arte ha dato tutto ma in maniera molto più pratica e riuscendo invece a lasciare qualcosa dopo di lei in realtà anche la marchesa Luisa Casati Stampa ha lasciato qualcosa ha lasciato un'immagine ha lasciato qualcosa che ha ispirato molti dopo di lei Peggy Guggenheim ha lasciato delle mura ha lasciato un museo ha lasciato una fondazione ha lasciato qualcosa di più pratico sarà forse che statunitense e quelli sono un po' più praticoni un po' più attenti al soldo di natura chissà non lo sapremo ovviamente mai ma è curioso pensare a questa analogia qui finisce la storia per ora palazzo Venier dei Leoni rimane una palazzo mostra un palazzo museo dedicato proprio alla fondazione Peggy Guggenheim cosa ne sarà di lui in futuro questo non lo sappiamo e chissà che non ci sia una quarta donna legata a questo palazzo sicuramente la quarta donna che io vado a ringraziare ancora una volta come sempre è Ilaria che trova sempre delle chicche meravigliose da farmi raccontare e attraverso di me da raccontare a voi io vi ringrazio mi fermo qua se volete sentirvi vedervi le altre due puntate di questa miniserie le trovate in descrizione ovviamente qua tutte le altre pillole sono qua su youtube una parte sempre in crescita sono anche sul podcast che trovate in descrizione se volete consigliarmi o scrivermi direttamente delle pillole potete contattarmi qua sui social descrizione facebook instagram telegram potete se non lo siete già e non volete perdervi le prossime iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo sperando che continuino a essere di vostro gusto la cosa più importante però e credo che su questo Peggy Guggenheim anche sarebbe molto d'accordo e che la cosa più importante è essere curiosi nel mondo dell'arte per non rimanere indietro ma anche nella storia perché la storia dell'uomo è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun registro ma è la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia spero interessante e curiosa per me come sono state queste a presto ciao ciao ciao